Buongiorno Roberto, oggi è il Specialist Eguedin, ma di una molto bella maniera. Sì, ha vinto nel modo migliore, senza stress, senza complicazioni, guidabile. Qualcuno diceva che poteva tirare, invece è molto gestibile, perfetto. Oggi ha dimostrato che poteva ancora fare molto bene nel futuro a Parigi. Sì, difatti il programma del proprietario e dell'allenatore sono francesi. Quale sarà la prossima corso per lui? Ma questa è una domanda che io farei all'allenatore, perché io mi limito a guidarlo in corsa. Oggi cosa ti ha mostrato di più delle altre volte? Ha mostrato qualcosa di più ancora delle altre volte? Oggi era più maneggevole e poi anche le altre volte ha dimostrato di andare forte, perché anche l'ultima volta ha corso da cavallo francese, più che da cavallo italiano. E bisogna ringraziare anche chi l'ha mandato in Italia già con una condizione molto buona, questa detta di Fabrizio Loa. Grazie.